Elena Radonicic, Metti una notte che cosa? Metti una notte una ragazza che incontra il nostro protagonista e che l'obbliga a delle attività rocambolesche su un malgrado. Lui cerca l'amore e lei cerca soltanto di usarlo per i suoi scopi non proprio nobilissimi. E' Thea ed è una ragazza che si crede molto furba e che non vede chi ha di fronte, che non entra veramente in contatto con l'altro. Quindi è il motore di questo film ma è un motore inconsapevole, è una persona un po' scema. Senti un film è molto movimentato dove c'è anche Amanda Lear nel cast, quindi la domanda è d'obbligo, ti sei divertita? Beh sì questa è una cosa odiosa da sentire ma sì ci siamo divertiti a fare il film. Perché è odiosa? Beh perché insomma l'importante è che si diverta il pubblico no? Io mi sono divertita molto a vedere il film e che incontra il mio gusto come spettatrice, come comicità. È una comicità che si sposta dal fuoco della scena, si occupa di più di quello che c'è attorno. Ha una comicità molto elegante, non di situazione ma di parola ed è una comicità intelligente. Cosimo è un autore nel vero senso del termine, ha una voce sua, non è rivolta ad una nicchia come magari può essere interpretato un film d'autore ma è rivolto secondo me a un grande pubblico.